Salve a tutti siamo qui con un nuovo video ed in questo video che otteneremo la serie sulla mod degli zombie In questo episodio ragazzi ci troviamo in una specie, anzi in una foresta vera e propria Con purtroppo un'orda di zombie alle calcagne almeno, ok forse adesso siamo riusciti a seminarli Comunque dovremo cercare naturalmente nuovi sopravvissuti Ed ecco qua che l'ho appena detto e ci sono dei sopravvissuti amichevoli non troppo lontano da qua Perché non so se vi ricordate lo scorso episodio era una live e purtroppo in quella live è successo Che gli zombie come avete poi scoperto hanno iniziato a imparare tra virgolette a saltare e a scavalcare Ok attenzione e a scavalcare le auto e purtroppo diciamo che non è il massimo ok Quindi si sono fatti molto più intelligenti e questo è stata la rovina del nostro accampamento Detto ciò purtroppo appunto non abbiamo più un posto in cui andare siamo di nuovo nomadi Non abbiamo più un posto sicuro lontano dagli zombie in cui possiamo ripararci da questa orda di non morti Vi avevo detto probabilmente nella live mi ricordo che non continuavo più la mod degli zombie o almeno non così spesso Semplicemente perché ragazzi purtroppo non è molto conveniente per me E questo è un dato di fatto youtube è cambiato e non mi conviene più portarvi la mod degli zombie Però dato che a me fa molto piacere portarvela e soprattutto se vedo voi contenti io sono contento Allora diamo un'altra possibilità a questa serie o comunque la porteremo magari meno spesso ma ogni tanto ci sta E oggi è questo giorno quindi adesso aspettate che ci sono un bel po' di zombie qui che voglio completamente uccidere Come vedete è una giornata molto molto nebbiosa ci sono un sacco di auto probabilmente di gente che si è incastrata qua Quando cercavano di scappare dall'apocalisse praticamente perché alla fine la possiamo definire un'apocalisse questa Non so perché purtroppo quest'arma ogni tanto fa cilecca forse perché ho installato male il silenziatore può essere Guardate ricchi e poveri entrambi cercavano di scappare ed entrambi sono morti In una fine piuttosto piuttosto sgradevole quindi non abbiamo più neanche un veicolo I veicoli che avevamo noi prima si trovano adesso alla nostra base siamo venuti qua tramite passaggio e dobbiamo cercare risorse solamente per sopravvivere noi Adesso purtroppo non serve più che portiamo delle risorse all'accampamento perché l'unica cosa che importa è sopravvivere Aspettate che sento un brutto rumore nel... non vorrei che ci sia qualcosa... uh vedo un accampamento lì Ragazzi quello sembra un accampamento che potrebbe essere molto utile aspettate Prendiamo lanciafiamme perché non voglio anzi con lanciafiamme però distruggiamo tutto il villaggio qua Magari possiamo trovare qualcosa di utile all'interno di quelle mura Anche se non so se mi faranno passare ma pensate se sono dei sopravvissuti In quel caso sicuramente ci sarà qualche cosa che possiamo sfruttare Oppure delle nuove amicizie dipende perché... ok ho sbagliato perché quella non era silenziata di arma Quindi abbiamo fatto casino e probabilmente ne abbiamo attirati di altri Come vedete le mura sono chiuse ma vedo del fumo quindi secondo me potrebbero esserci dei sopravvissuti Nessuno è di guardia sulla torretta il che non mi fa pensare a una posazione molto sicura Oppure a dei sopravvissuti in realtà Qua c'è un sole con scritto non lo so Nel... non riesco a capire niente Come vedete queste mura sembrano chiuse vediamo se riusciamo ad aprirle per entrare Se do uno sguardo dentro purtroppo mi pare di non vedere nulla No non c'è niente di interessante aspettate che c'è un altro zombie Vediamo se c'è un altro modo per... aspettate che... vedete non riesco a sparare con quest'arma facilecca Vediamo se riesco a scavalcare qua che probabilmente gli zombie non sono abbastanza intelligenti per scavalcare Ma io sì quindi forse riesco a raggirare le mura Sembra di sì wow che sicurezza schifosa che hanno Ok sono già dentro Bene quindi da quello che vedo non c'è nessuno Però i cammini sembrano ancora andare quindi forse queste case si sembrano chiuse a chiave Ci sono delle specie di disegni ovunque Ah... lo sentite c'è una specie di musichetta strana Questa cosa si fa molto molto strana Inizio ad avere un po' di paura secondo me questa serie si sta unendo al misticismo Non è possibile che ci siano i cammini che vanno ma poi non c'è nessuno ad alimentarli Quindi o è un incendio oppure qualcuno si sta nascondendo una me L'unica cosa che posso fare è proviamo a sparare a quella bombola di probabilmente gas Vediamo Ok ha preso fuoco Voglio riuscire a sfondare magari la porta all'ingresso se è possibile Wow Ok una bella esplosione c'è stata Due belle esplosioni Eppure non è servito a niente non si è neanche riuscita a scalfire quella porta Sembra quasi essere tornati indietro nel tempo Comunque a... qua ci potrebbe essere qualcosa di interessante Guardate esplosivi Casse di esplosivi ovunque Oddio ok bello Ragazzi ho appena trovato delle armi interessanti mi sa Ok fucile a pompa d'assalto che potrebbe essere molto utile sicuramente Almeno ce l'abbiamo Poi per trovare le munizioni sarà un altro paio di maniche però intanto ce l'abbiamo Lancia razzi Ok quindi apparentemente non è immune questo luogo agli zombie come vedete ce n'è uno proprio lì Però sono molto contento che almeno Uh diamine guardate come me lo metto dietro Abbiamo addirittura un RPG Che non so come lo possiamo portare così sulle... nella schiena eh Però almeno ce l'abbiamo Ok infettando gente non mi piace come scritta Infett... uh Oh ok mi sa che sono usciti adesso Sono usciti adesso Sembrano usciti allo scoperto Sono dei tizi molto molto strani come potete vedere Sembrano tutti... tutti nudi Tutti dei nudisti Ok aspettate Oddio ok prendiamo il fucile D'assalto perché qua la situazione si sta scaldando troppo Come avete visto nell'altro episodio ragazzi purtroppo sembra che abbiano imparato a saltare Il che li rende abbastanza difficili da uccidere Ok 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 Cavolo si stanno infettando sempre di più Diamine speriamo che questo non riesca a saltare vediamo Ok 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 sono troppi sono troppi adesso sono troppi Vediamo se riusciamo a uscire da qua Per fortuna sembra aperto sulla foresta quindi Oh mamma Ragazzi quanti sono guardate nella mappa non riesco neanche Vi giuro sta... oddio Ok no 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 qua non riesco neanche a farlo funzionare bene Perché non so se lo notate ma sta laggando Ok wow wow attenzione Diamine Oh mamma mia ragazzi Quindi non so se lo vedete ma addirittura ci sono zombie che si sono buttati per prendermi E sono ancora tutti lassù Quindi io direi di andarcene via da qua il prima possibile Mi sono spaventato e soprattutto sono caduto E mi sono fatto abbastanza male Ho preso una botta purtroppo Fortunatamente con me ho sempre delle garze E delle altre cose medicine Quindi più o meno adesso con metà vita ce la possiamo fare Abbiamo bisogno di compagni abbiamo bisogno di un posto sicuro Abbiamo bisogno di stare lontano da quell'orda di zombie improvviso Ha fatto malissimo ad entrare in quel villaggio All'inizio sembrava molto sicuro Poi improvvisamente non so per quale motivo Credo che siano usciti tutti allo scoperto E quello che è successo lo avete visto anche voi È stato veramente veramente terribile Quindi come vedete questa non è la zona migliore in cui stare Veramente assurdo Meglio andarsene il prima possibile Speravo di trovare qualcosa in quell'accampamento Ma apparentemente non abbiamo trovato nulla di utile Tranne solamente ancora morte e zombie putrefatti Anzi addirittura zombie nudi Che sono forse peggio pure di quelli putrefatti Comunque eccoci qua Bene almeno abbiamo trovato una strada Il che potrebbe essere importante Guardate qui ci sono pesche, meloni, mele E tante altre cose Noccioline Guardate che roba Purtroppo la frutta è completamente andata Quindi sembra che non ci siano zombie qua vicino Anzi neanche finito di dire e c'è Abbiamo bisogno di un kit di riparazioni Quindi vediamo se ne riusciamo a creare uno Probabilmente con tutto quello che abbiamo Sembra che abbiamo veramente un sacco di cose E teoricamente possiamo crearlo Ed è esattamente così Sì possiamo crearlo Possiamo riparare il veicolo Vediamo di farlo prima che gli zombie ci raggiungano Quello lì si sta avvicinando pericolosamente Ma dovremmo farcela in tempo Vediamo qual è il problema Perfetto riparata Bene Ottimo Entriamo qui Abbiamo purtroppo perso Uh ci picchia Guardate dov'è Guardate come esce fuori dal tetto L'RPG Uh addirittura la radio Wow qualcosa che non sentivano un sacco Comunque eccoci qua Possiamo mettere sotto un paio di zombie E guardate ragazzi La situazione è veramente critica Qua questo purtroppo non è un veicolo anti zombie Quindi mi si è appena spaccato il parabrezza Che non è direi la cosa migliore Perché purtroppo entrano pezzi di zombie Budella e altre robe Quando non abbiamo il finestrino davanti Però è così vediamo di non rovinare già questo veicolo Che ci serve per tornare verso la città Anzi proviamo a vedere questa cittadina qui Se c'è qualcosa di interessante Eh non so neanche come si chiama Perché purtroppo Pala Springs Sembra Questa è la tramvia che ci porta esattamente sopra il monte Che non so se è più in utilizzo Non credo Infatti non si sta muovendo più Purtroppo qua manca completamente l'elettricità Quindi non va più né avanti né indietro Però almeno sappiamo che qui ci sono dei sopravvissuti Vediamo se riusciamo a trovare qualche scorta Qualche posto in cui dormire per la notte Perché che ore sono Vediamo se c'è un orologio in questa macchina Sembra no No non c'è un orologio Peccato Ok penso che siano circa le Purtroppo neanche il sole riesco a vedere Ok c'è un orologio qui Mi sa che è fermo È fermo alle nove No non sono neanche le nove in punto quelle Che ore sono Ah mezzogiorno o meno qualcosa mi sa Ok Peccato Quindi qui c'è un mercato C'è un Paletto Bay Market Quindi mancano un paio di lettere Però dovrebbe essere Paletto Bay Market Qui una volta probabilmente c'erano tante persone Che vendevano oggetti E qui un accampamento militare sembra Qui vicino dovrebbe esserci la fabbrica di Clackingbell Guardate che scena ragazzi La chiesa completamente abbandonata nella nebbia E con degli zombie davanti Wow che bello Nessuno purtroppo è riuscito a trovare un posto sicuro Neanche all'interno della chiesa Che qua si chiama San Brigitte Scritto col sangue ma chiesa battista E purtroppo neanche questo è servito a salvare la vita a queste persone Vieni qua Vieni qua Forza 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 Vieni 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 Ok colpo la testa Ah bene Muori a terra e non ti rialzare mai più Direi di Ok mi sa che è ancora vivo Mi sa che è ancora un non vivo Ed è ancora un non vivo Sì Purtroppo sono duri a morire A meno che non gli si colpisce esattamente nella testa Perfetto morto Ok vediamo che cosa ha rilasciato Sei risorse Questo è stato probabilmente uno dei più produttivi che ho mai ucciso di zombie Molto molto bello Allora mi piacerebbe avere un'auto della polizia Perché come sapete possiamo sfruttare il fatto che hanno delle sirene Per attirare gli zombie quando vogliamo Noi guardate le particelle di polvere Con la luce del sole che strano effetto fanno Guardate ci stiamo muovendo in una specie di zona Wow Bellissimo Però qua non sembrano esserci dei veicoli C'è una zona in cui probabilmente la Merryweather rilascia dei pacchetti Ovviamente sapete che quei pacchetti sono per i militari Quindi se qualche sopravvissuto come me cerca di avvantarsene Purtroppo bisogna uccidere tutti i militari che si trovano nella zona Quindi accensione Attenzione Oh mamma mia non riesco più a frenare perché questi freni sono vecchi Oppure sono pieni di sangue Quindi non riesco più a farli funzionare Ok abbiamo appena fallito Probabilmente delle altre persone Uh cavolo contro l'albero Qualcuno ha già preso queste scorte E non c'è più posto per noi No purtroppo no Cerchiamo di tornare Uh c'è una specie di furgone camper Ok questo potrebbe essere utile È un furgone camper sembra Vediamo se è utilizzabile Sì sembra di sì Vediamo se si accende e funziona Perché potremmo anche dormire in questa roba rosa E volendo Oh ragazzi non ci credo Nel primo veicolo che vediamo che funziona veramente al primo colpo Wow Bene questo lo possiamo sicuramente utilizzare per dormirci sopra Vedete ha uno spazio veramente enorme dietro Non si può aprire dietro Sì si può aprire solamente una parte Vedete qua ci si infila magari un materasso E abbiamo una zona in cui dormire Sempre pronta Aspettate che non si può vedere quel RPG dietro Lo tolgo Ok ragazzi eccoci qua Siamo operativi Quindi questo ha sicuramente un coefficiente di sfondamento superiore Rispetto al veicolo di prima Però il problema è che è lentissimo Veramente lentissimo E non sono abituato a un veicolo così lento Guardate però La cosa importante è che possiamo dormirci dentro E che potrebbe essere utile Per tutti i nostri spostamenti Purtroppo siamo tornati ad essere nomadi Come vi ho detto all'inizio dell'episodio Quindi dobbiamo riarrangiarci con quello che abbiamo Guardate qua Qua dentro voglio vedere quante cose ci sono E soprattutto la funivia non funziona naturalmente Ma non c'è più niente Purtroppo il tempo e gli zombie Si sono mangiati assolutamente tutto Quindi come sapete I sopravvissuti sono sempre meno Non nascono praticamente più bambini Perché dove possono nascere in un mondo del genere Sono anche i genitori che non vogliono Che i bambini crescano in una cosa simile Perché poi crescono come vagabondi E devono cercare di sopravvivere dagli zombie Che diciamo Morire per colpa di uno zombie è una morte veramente crudele Ma per quanto riguarda il resto Guardate c'è una Forse meglio di questo veicolo qui C'è un'ambulanza Cioè ragazzi se ci pensate Un'ambulanza è più veloce di questo Ha lo stesso lettino e il posto per dormire E anche la sirena Che è quello che io cercavo prima Per poter scacciare gli zombie Quando serve Quindi Vediamo di magari portare via tutti questi zombie Che mi stanno inseguendo adesso E cerchiamo di riparare Aspettate Dobbiamo prima creare un kit di riparazioni Perfetto creato E adesso voglio riuscire appunto a riparare Quell'ambulanza Aspettate Dobbiamo prima ucciderne un paio Ok via 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 Pistola silenziatore ce l'ho Uccidiamo lui che è quello che correva Uccidiamo lui e tutti quanti Perché abbiamo bisogno di spazio Purtroppo Cerchiamo di non sprecare troppe munizioni In realtà Perché se no Ok poi è abbastanza grave Ci siamo Ci siamo Possiamo iniziare Ok mi sa che possiamo iniziare a ripararla Vediamo Dovremmo avercela fatta ragazzi Vediamo se funziona E funziona Vediamo se la sirena funziona Ok non funzionano i lampeggianti Probabilmente sono stati fulminati Però funziona almeno il suono Che è la cosa importante Dire ai ragazzi che siamo a posto Perché guardate Qua dietro se noi apriamo Ok non si può aprire Probabilmente è bloccato Non so per quale motivo Però Guardate che figata Noi attiviamo la sirena Questo poteva essermi utile L'abbiamo appena perso Ma Probabilmente è bloccato la parte dietro Ma c'è il posto per metterci un lettino Quindi siamo sicuramente meglio Rispetto al veicolo di prima Ed è anche molto più veloce Da quello che potete notare Quindi Adesso cerchiamo di andare Verso quei sopravvissuti amichevoli Vediamo se ci sono delle persone Che possiamo reclutare O delle persone che vogliono reclutare noi Eccoli qua Sembrano ancora vivi Sono armati di Wow Rastrelli e mazze da golf Quindi non li vedo Che sono messi molto bene Ma Vediamo se li riusciamo per caso a Ok stanno cercando di scappare Wow c'è una donna Una donna che Uuu Con un fucile addirittura Ok la stiamo reclutando Vediamo di fare con Oh wow 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 Ok ok Attenzione Attenzione Cosa stanno sparando Ha sparato al suo compagno Ha sparato al suo compagno Non ci credo Non ci credo Diamine Allora cerchiamo di fare da guardia E l'arma ce l'ha Quindi non c'è bisogno Cerchiamo Anzi veicolo Facciamoci inseguire con il veicolo Vediamo se ne ha uno suo Utile è utile ragazzi Perché come vedete Sta sparando a tutti gli zombie Non so se io la posso Uh però sta sparando anche Ok ci sta coprendo con la nostra ambulanza Magari se non Guardate come si è messa Ok no Magari se non Ok se non distruggessi la mia ambulanza Mi faresti un favore Quindi vediamo magari di modificare Un secondo il suo atteggiamento Facciamo che mi segue e basta Perfetto Così teoricamente dovrebbe venire con noi Sull'ambulanza Salta su Ok Oh lei è riuscita ad aprirla La parte dietro Perfetto Quindi Ottimo Chiudila anche Wow Ragazzi siamo riusciti a trovare Una sopravvissuta Che potrebbe fare il caso nostro Non solo per la riproduzione Della specie umana E qua vi faccio l'occhiolino Ma anche perché Così almeno siamo in due Possiamo sopravvivere sicuramente meglio Rispetto a essere uno solo Probabilmente non si fida ancora di me Per quello non è venuta di sopra Uh driftone con l'ambulanza E vediamo dove sono i suoi compagni Perché mi pare di ricordare Che erano in quattro Non so che fine abbiano fatto in realtà Ok sono in una zona ostile Sto entrando in una zona ostile E guardate le particelle di luce Con la polvere Uh siamo finiti in un dirupo Siamo finiti in un dirupo In cui non so se uscirò mai Perché questa ambulanza Non so se ha il potere Wow invece si Invece si Oh attenzione 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 Militari militari nella zona Militari nella zona Rientriamo nel buco Adesso io e te Dobbiamo assolutamente combattere Quindi dov'è che possiamo Ok combatti Perfetto Penso che tu abbia già un'arma No è appena morta Non ci credo No non è ancora morta Non è ancora morta Attenzione 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 I militari sono abbastanza seri In questo caso Cerca di non morire Tu potresti essere l'unica sopravvissuta Che conosco Cerca di non morire Ragazzi come vi ho sempre detto Purtroppo sono peggio I sopravvissuti Che gli zombie Perché gli zombie si possono controllare Ma i sopravvissuti no E wow Attenzione stai in riparo Stai in riparo Stai in riparo Cerca di non esporti troppo Stai dietro l'ambulanza L'ambulanza per fortuna È un'ottima zona In cui ripararsi Quanto manca Teoricamente mancano pochi nemici E siamo a posto Vediamo dove si trovano I prossimi nemici Lei continua a sparare Perché ci sono gli zombie Attirati dal suono Delle armi da fuoco Cerchiamo di tornare Leggermente su Vediamo se riusciamo Ok questi alberi Ci possono fornire Almeno una buona protezione Ok vedo gli altri nemici Uno è morto Due sono morti Tre sono morti Perfetto Ragazzi ci siamo Ci siamo Ci siamo Vediamo se riusciamo A prendere la nostra cassa Che ci siamo guadagnati Direi con fatica Eccola qua Ecco qua il nostro tesoro Vediamo che cosa c'è all'interno Ok abbiamo trovato Cinque armi all'interno Soprattutto le armi E le munizioni Che troviamo da loro Saranno molto importanti Non so bene Che armi abbiamo trovato Sembra un mitra d'assalto Un fucile avanzato Un fucile da cecchino Un moschetto La cosa più inutile Che possa esistere E un macete Un braccio Come potete vedere Quindi purtroppo Sono abbastanza ferito Questo veicolo Alle gomme a terra Lei se l'è cavata meglio Di qualsiasi altro uomo Che ho incontrato Lungo la strada Il che potrebbe fare di lei Sicuramente il migliore compagno Che abbiamo trovato Guardate che figata Riesce a sparare da No non ci credo Ok lei è la più intelligente Utile che abbiamo trovato Vedete Apre chiude lo sportello E naturalmente Soprattutto spara Dal Guardate No vabbè Questo è troppo figo Riesce a sparare da dietro Ragazzi adesso come vedete Si sta facendo abbastanza tardi E soprattutto non abbiamo sete Quindi ci serve un accampamento Immediatamente Escezione che qua c'è un C'è un Oh no 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 Di qua non possiamo scendere Di qua purtroppo non possiamo scendere Bene Purtroppo c'è una nebbia terribile Ma se qua c'è un canale di scolo No in realtà Non c'è nessun canale di scolo Cavolo Stiamo distruggendo completamente Questo veicolo Che è l'unico Che ci poteva servire Ragazzi guardate Con la nebbia Le particelle E la polvere Non si vede assolutamente Una cepa di niente Quello che sto cercando È una zona abbastanza riparata In cui possiamo Accendere un fuoco Penso che qua forse Potrebbe andare bene Bere qualcosa Perché la sete Si sta facendo sentire E anche inoltre Aspettate Vediamo un secondo Bene Se abbiamo un fuoco da campo Sembra di sì Abbiamo addirittura Della acqua già pulita Quindi non serve neanche Un fuoco da campo Utilizziamone due Due bottigliette Benissimo Fuoco da campo non serve Quindi penso che siamo Già a posto Sì Dobbiamo solamente trovare Un accampamento Un luogo in cui dormire Probabilmente dormiremo Nell'ambulanza Però non si sa mai E quindi dobbiamo Trovare un bel posto In cui stare Perché anche se dormiamo Nell'ambulanza Ci serve comunque Un posto riparato Perché non vogliamo Gli zombie attorno Ok Cerchiamo di tornare Quindi verso la città Magari abbandoniamo Questi alberi E vediamo com'è la situazione Verso Los Santos Ok ragazzi Siamo tornati in città E sta facendo molto buio Ma voglio arrivare qua A Del Perro Semplicemente perché Penso che qui forse Ci potrebbe essere L'unica soluzione Al nostro problema Vediamo se riusciamo A trovare un accampamento La ruota panoramica Sta girando ragazzi Non ci posso credere La ruota panoramica Sta girando Non so se è colpa Del vento Oppure effettivamente Wow Che distruzione ragazzi Oh mio dio Guardate qua che figata Bellissimo Allora cerchiamo di lasciare L'ambulanza qui Sembra già un posto migliore Rispetto a quello di prima Guardate qua che roba Qua si è schiantato Apparentemente un altro aereo Che non è la prima volta Che vediamo un aereo Schiantarsi Però questo potrebbe offrire Un'ottima zona in cui dormire Che ne pensate Guardate qua La fusoliera di un aereo Potrebbe essere una buona Un buon luogo In cui riposare Ora Quasi quasi Dato che è tantissimo Che non lo faccio Mi farei un giro Sulla ruota panoramica Perché ragazzi Guardate qua che roba Che figata Completamente distrutto Un elicottero abbandonato Qua sembrava dovessero Ripitturare O rifare un nuovo cartello Ed è tutto distrutto Probabilmente sono schizzati Dei vagoni Dalle montagne russe In giro Per tutto questo luogo Non so bene come Probabilmente forse Potrebbe essere un sovraccarico Questa sembra ragazzi Una zona divisa Forse qua potrebbe esserci Un accampamento Oppure dei militari Guardate qua è completamente Chiuso Dal Da questa barriera L'unico problema Dov'è la nostra compagna Non so perché l'abbiamo persa Però mi sa che ancora L'è in mezzo Speriamo che se la cavi Comunque ragazzi Guardate qui Molto molto bello Quindi vediamo se riusciamo A trovare un luogo In cui fare da accampamento Ci sono degli zombie Purtroppo Quindi Ok il teaser Forse non è l'arma migliore Ok benissimo Sicuramente la pistola Con il silenziatore È qualcosa da utilizzare Sangue ovunque Il che non mi piace affatto C'è addirittura un giornale Forse qualcuno ha pensato Che stare qui O su un'isola Potrebbe avergli salvato la vita Ma sembra non essere il caso Dato che gli zombie Sono presenti anche qui Nonostante fosse ben isolato Rispetto al resto Ma apparentemente Non serve Perché purtroppo ragazzi Basta anche Che una persona All'interno dell'accampamento Muoia E nessuno se ne accorge Che si trasforma in zombie E può contagiare Tutte le altre persone Guardate qui Che passaggio Veramente una figata Assurda Bello 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 Quindi cerchiamo di riposare Da qualche parte So che dobbiamo prima Uccidere lo zombie Che sta facendo questo casino Se no veramente Non riesco a riposare O a chiudere occhio Guardate qua Che rumore che fa Ok non è la zona migliore Per riposare questa Sentite le urla Incredibile Incredibile Allora c'è uno zombie Che si è rimasto bloccato Qua sicuramente Quindi cerchiamo Attenzione 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 Uno zombie morto Due zombie morto Per fortuna Quest'arma questa volta Mi ha fornito Una buona protezione Perché ogni tanto Come vi ho già detto Non funziona Però vediamo di Ok scavalcare qua Perché purtroppo C'è un altro zombie Ancora incastrato Da qualche parte E devo riuscire Ad ucciderlo In qualche modo Eccolo qui Morto Bene Ragazzi questa sembra Adesso una zona Abbastanza sicura Direi di metterci Una tenda Perché purtroppo L'ambulanza Non la possiamo portare qua Dormiremo le prossime notti Guardate che figata Dentro il tombino È pieno di pezzi Di uomini Piazziamo una tenda Giusto giusto qua Perché la nostra fortuna È che possiamo dormire Anche nella tenda E direi di farci un riposino Ok non posso fare un riposino Perché ci sono nemici Nell'area Cavolo Ok speriamo di poter riposare Adesso perché ne abbiamo Veramente bisogno Ora c'è anche Una specie di musica Non so se la sentite Che viene da Da qua Quindi non so perché esiste Però dormiamo adesso Ok ragazzi Buongiorno La nebbia non si è ancora Diramata Ma un'altra giornata Piena di zombie E schifezze Purtroppo ci toccherà Guardate si è ghiacciato Completamente Tutto il sangue Che c'era per terra Guardate tutto ghiaccio Addirittura questo intestino È pieno di ghiaccio Comunque direi che Terminiamo qua ragazzi Quindi grazie a tutti Della visione Se il video vi è piaciuto Lasciate un like Mi raccomando Iscrivetevi È molto importante Inoltre in descrizione Trovate il link Per comprare la mia maglietta La mia felpa ufficiale E anche per seguirmi Su Instagram e Facebook Inoltre se volete C'è anche il link Per comprare questo gioco Al prezzo più basso Che possiate trovare Quindi vi conviene Comprarlo lì È la versione che ho anch'io Detto ciò Grazie ancora Arrivederci Esistono già le mod Che mi permettono Di fare la storia Creare la storia Che voglio creare io Che voglio creare io